Queste due gemelle siamesi in braccio alla mamma oggi possono sorridere, ma la loro storia era cominciata in un altro modo. Le due bimbe sono nate nel 2018 in Centrafrica, unite per la testa, nuca contro nuca. Avevano in comune la scatola cranica e gran parte del sistema venoso. Una scoperta inaspettata per la mamma e per i medici locali. Le bimbe vengono trasferite nell'ospedale di Bangui, voluto proprio da Papa Francesco. È lì che la presidente dell'ospedale, Mariella Enoch, incontra le gemelline e decide di portarle a Roma. Inizia così la nuova vita delle piccole. E dopo oltre un anno di preparazione e di studio, tre interventi delicatissimi, è arrivato l'ultimo con la separazione definitiva il 5 giugno scorso. Un'operazione straordinaria, durata 18 ore, che ha coinvolto 30 persone, tra medici e infermieri. È il primo caso in Italia, è probabilmente l'unico al mondo. E a un mese dall'intervento, le gemelline stanno bene, giocano e scherzano con le infermiere. Voi non ci crederete, io vi salverò. Ci sono per poco, libero un rango tango. Un ritorno alla normalità, coronato dalla festa organizzata dall'ospedale per il loro, secondo complejo. Sì, la soffia! Uh, questo è un trame!